Oggi ragazzi, un bel video alla vecchia maniera di Hawk Comics, andiamo a prendere un personaggio e svisceriamo completamente la lore che gira intorno a di lui. Ovviamente oggi in realtà abbiamo selezionato un personaggio molto particolare, letteralmente il Gesù della Marvel. Stiamo parlando di Nathaniel Gray, uno dei figli... vabbè, non voglio farvi spoiler, non voglio farvi troppi spoiler. Prima di cominciare infatti col video, cosa vi devo dire? Vi devo dire di iscrivervi al canale, attivare la campanellina se vi va e soprattutto di mettere un bel mi piace a questo video così da aiutare i nostri contenuti a girare un po' di più, così aiutate anche il nostro progetto a crescere. E devo dire che ultimamente questo progetto mi sta dando molte soddisfazioni. L'ambiente Marvel DC in Italia non è grande come quello dei manga o degli anime, però stiamo crescendo tanto e quindi ci stiamo prendendo anche questa fetta qua. Quindi grazie, continuate ad iscrivervi, continuate a mettere mi piace e io direi che possiamo cominciare. Allora, piccola premessa. Stiamo parlando di un mutante di un'altra dimensione, che però comunque ha vissuto moltissimo anche in Terra 616. In particolare parliamo di Terra 295, che è una terra molto particolare e ci arriviamo tra pochissimo. E l'ambientazione da cui nasce è molto importante per quanto riguarda le sue origini. Questo mutante sembra essere fortissimo, se non addirittura il più forte. Difatti, per chi non lo sapesse, c'è una gradazione per quanto riguarda i poteri dei mutanti. C'è già un video in cantiere in cui andremo a spiegare questa gradazione. E il massimo livello in assoluto per quanto riguarda la potenza dei mutanti dovrebbe essere il livello Omega. Esistono però dei mutanti che vengono considerati oltre l'Omega. Ecco, secondo un altro mutante, secondo Legion, X-Men, quindi il personaggio di cui andiamo a parlare oggi, che prende appunto il nome di X-Men al singolare, questo vi fa capire anche l'epicità di questo personaggio, dovrebbe essere oltre il livello Omega. Dice proprio, certo, il livello Omega è il massimo che si può raggiungere, Però, per descrivere uno come lui, c'è un qualcosa di più alto? Bene, questo vi dà anche un attimo l'idea di che cosa può fare questo mutante. E come vi ho detto però, ragazzi, bisogna partire dalla sua terra d'origine. In particolare, bisogna partire da Terra 2-9-5. In questo universo, David Haller decide di tornare indietro nel tempo, con la speranza di cambiare la storia, così che suo padre, Charles Xavier, possa esaudire il suo desiderio, quello di creare un mondo pacifico tra i mutanti e gli esseri umani. Per farlo, Haller che cosa fa? Decide di tornare nel passato per uccidere Eric Lesher, che sarebbe appunto Magneto. Tra l'altro, torna nel passato in un tempo in cui moltissimi eroi, tra cui i Fantastici 4 e la maggior parte degli Avengers, ancora non esistevano. E questa è una cosa importante e ci arriviamo tra poco sul perché. X-Men, quindi, tornano anche loro nel passato per cercare di fermarlo, per cercare di impedire l'assassinio. Ovviamente aveva in mente un obiettivo ben preciso, ma non potevano lasciare assassinare un uomo in questo modo. E quindi c'è un combattimento tra di loro nel passato. Questa battaglia avviene più o meno in Palestina e vediamo che Apocalypse sente questa battaglia e sentendo questi poteri decide di risvegliarsi subito. In poche parole, Apocalypse si sveglia qualche decennio prima di quanto si risveglia nel canone. Risvegliandosi prima, come vi ho citato poco fa, non trova nel mondo grandi eroi come i Fantastici 4, gli Avengers, una grande squadra degli X-Men. E quindi, in poche parole, Apocalypse riesce praticamente a conquistare la Terra e a distruggere moltissima civiltà umana da subito. Stiamo parlando quindi di una Terra, quella di 295, praticamente distrutta e martoriata, una sorta di scenario post-apocalittico governato quasi tutto da Apocalypse. Ed è proprio in questo scenario che nasce Nate Gray. Viene creato geneticamente da Mr. Sinister, che utilizza il DNA di Ciclope e Gene Gray. Tra l'altro, questa cosa lo accomuna moltissimo a Cable. Di fatti, in realtà, nonostante abbiano due diverse madri, sono trattati all'interno dell'universo Marvel come le due controparti di due realtà alternative. E più o meno questa è una storia che funziona. Tra l'altro, Mr. Sinister perché crea Nate Gray? Per creare il mutante più potente in assoluto che potesse uccidere Apocalypse, che in questa storia qui è un po' come se fosse il diavolo. C'è una storia anche un po' intricata sulla sua gioventù. Nate, infatti, diventa adulto molto molto in fretta e a un certo punto riuscirà anche ad attaccare la roccaforte del suo rivale di Apocalypse, dove si scontrerà però non direttamente col capo, ma prima con suo figlio, che si chiama Holocausto. Tra l'altro, in questo combattimento, Nate stava utilizzando un cristallo, un cristallo McCrean, che è un cristallo potentissimo che volevano utilizzare per combattere. Dopo averlo utilizzato nel combattimento, però, il cristallo lo trasferisce su Terra 616, dove Nate si schianta e dove inizia la sua vera e propria attività da eroe. Nate, quindi, è stato progettato geneticamente geneticamente per essere il mutante più potente sulla Terra, l'opzionico più potente che si possa immaginare ed è classificato oltre il livello Omega. Viene descritto come l'essere più potente, più pericoloso, il mutante definitivo, il più potente di qualsiasi realtà. Quasi, quasi onnipotente. Una sorta di dio vivente, praticamente. Questo design che lo fa assomigliare tantissimo. A Gesù Cristo, ovviamente, è un riferimento alla sua natura divina e allo stesso tempo diciamo che ci sono anche delle altre motivazioni che riguardano la storia, ma ci arriviamo piano piano. Comunque, altri indizi che ci rivelano la potenza di questo personaggio è quando viene detto che avrebbe potuto combattere tranquillamente contro sua madre, contro Jean Grey, però intrisa di forza della Fenice. Avrebbe combattuto tranquillamente alla pari con Sentry e in più lo stesso Nate dichiara che lui e lo stesso Sentry hanno combattuto contro Galactus tranquillamente. Ecco, ora direi di passare alla parte che probabilmente vi interessa di più, quindi cercare di capire quali sono veramente questi poteri. Ragazzi, faccio prima a dirvi che poteri non ha, perché veramente ha un set di poteri infinito. Può manipolare la materia, può manipolare l'energia, può decidere di essere intangibile, può creare degli ologrammi telecinetici, può volare, può creare dei campi di forza, può utilizzare la telecinesi in modo assurdo, può manipolare il potere delle altre persone, può creare delle esplosioni solo con la forza della sua mente, può manipolare la memoria, può controllare la mente, può creare illusioni, può fare praticamente di tutto, può creare delle proiezioni, poi c'è tutto, c'è tutto, semplicemente tutto. Quindi passiamo invece ad un altro lato che sicuramente vi interessa, il perché questo personaggio viene un po' associato anche a Gesù per un sacrificio che lui stesso a un certo punto fa per salvare l'umanità. Questa storia ha a che fare con un essere alieno, che noi chiameremo Mietitore o Harvester in italiano. Il Mietitore è un alieno proveniente da una razza di agricoltori, tra virgolette, che a un certo punto seminano certi mondi per una successiva raccolta di energia, per cibarsi appunto di questa energia. Tre miliardi di anni fa infatti visitarono la Terra quando ancora c'era il brodo pirimordiale per intenderci, avevano appunto seminato il loro codice genetico. Trent'anni fa però hanno visto che l'umanità si è evoluta, che in generale la Terra si è evoluta e quindi ora grazie al materiale generico che si trova all'interno di ogni singolo umano sono pronti alla raccolta, sono pronti quindi in poche parole a uccidere tutti. Ecco, che cosa decide di fare Nate? Decide di trasformarsi in energia pura per fondersi con il Mietitore. Facendo così decide anche poi di dividere ogni singola parte del suo corpo per entrare all'interno del codice genetico di ogni singolo umano, andando ad avvelenare tra virgolette il raccolto dei Mietitori di questa stirpe di alieni assassini. Facendo questo quindi i Mietitori non sono più interessati a uccidere tutti gli umani e quindi lasceranno in pace la Terra. Facendo questo però ragazzi Nate praticamente si sacrifica, praticamente dona il suo corpo, la sua vita e la sua energia per salvare tutta l'umanità. In questo modo la missione tra virgolette anzi il design anche che ha questo personaggio che lo fa sembrare un messia arriva proprio a completarsi. Ovviamente però siamo nel mondo dei fumetti, siamo nel mondo della Marvel quindi questo personaggio a un certo punto torna. Poi ovviamente avere questo personaggio in mezzo ai piedi quando si fanno delle storie è un po' complicato quindi praticamente tutti i suoi poteri vengono assorbiti da una macchina e li perde poi li riacquista di nuovo fa parte dei New Mutants aiuta la creazione di una civiltà mutante cioè fa tantissime cose è un personaggio che torna diverse volte e proprio per concludere questo racconto per concludere questo video anche per andare a parare in una delle storie più recenti in assoluto che riguarda questo personaggio a un certo punto si fissa nel dover creare questo mondo perfetto e a un certo punto quindi si scontrerà anche con gli X-Men scontrandosi con gli X-Men con l'aiuto di un artefatto che è il seme della vita decide di creare una sorta di pocket dimension in realtà una sorta di mondo su un piano astrale che si trova proprio all'interno di se stesso cioè Nate diventa questo mondo nascosto prende tutti gli X-Men tutti i mutanti che partecipano a questa battaglia e li porta in questo piano astrale che denominiamo Age of X-Men sempre definendo X-Men al singolare riferendosi ovviamente a Nate in questo mondo tutti i mutanti vivono in pace in una sorta di paradiso andando avanti però col tempo tutti gli X-Men piano piano si rendono conto di vivere una vita alternativa perché aveva provato anche a cancellare la loro memoria di cancellare la memoria del mondo reale e quindi decidono di affrontare Nate non fisicamente perché sarebbe impossibile ma semplicemente spiegandogli la situazione Nate acconsente a riportarli nel mondo originale distruggendo quindi questo piano segreto che aveva di far vivere i mutanti in una sorta di paradiso ragazzi questo era Nathaniel Gray un personaggio particolarissimo questo è uno di quei personaggi quando proprio gli autori si rendono conto di essere andati troppo oltre infatti deve essere nerfato diverse volte devono gestire meglio la sua la sua forma gli devono togliere i poteri certe volte perché è veramente un personaggio onnipotente voi lo conoscevate fatemelo sapere con un bel commento e fatemi sapere con un commento quale altro personaggio vorreste vedere su questo canale noi comunque ci vediamo prestissimo con altri contenuti a tema Marvel mi raccomando fate i bravi e noi ci vediamo presto ciao a tutti ragazzi